Già prima del Covid un terzo dei comuni siciliani era in dissesto o predissesto deficit strutturale. Questa condizione aveva conseguenze fortemente negative per i servizi pubblici locali. La crisi economica derivata dal Covid che ha colpito in particolare le regioni del sud rischia di avere esiti catastrofici. In particolare per i cittadini che colpiti dalla crisi dovranno indebitarsi per fare fronte ai tributi locali ma anche per le città per lo smaltimento dei rifiuti, per il trasporto pubblico locale, per l'illuminazione pubblica che saranno fortemente messe a rischio a causa della ridotta riscossione dei tributi. Serve quindi un intervento che cancelli le tasse locali per le fasce sociali più disagiate e serve un intervento magari attraverso le risorse del recovery fund che finanzi i servizi pubblici locali.